48 ore per preparare una sfida campale. Il match contro la Virtus Franca Villa potrebbe rappresentare per l'Avellino un nuovo snodo importante per la stagione, al netto ovviamente di quel Touris Bari da osservare con molta attenzione. Braglia dovrà analizzare una moltitudine di fattori prima di ipotizzare la formazione migliore per sfidare i pugliesi. L'assenza di Dossena per squalifica, l'infortunio di Mastardi che proprio questa mattina è stato operato al polso e le condizioni di Maniero che è dolorante ad un polpaccio. A questo si aggiunge la precaria forma di Murano che ieri si è allenato in piscina e Plescia che continua ad essere a mezzo servizio al pari di Di Gaudio che non è apparso nella forma migliore nell'ultima uscita contro il Monterosi. Ciò detto il tecnico potrebbe riaffidarsi al 3-4-2-1 con la linea difensiva formata da Ciancio, Silvestri e Bove a centrocampo, Rizzo, Carriero, Aloi e Tito con Matera pronto a dare il proprio contributo, ipotizzabile l'impiego di Mikoski e Canuté alle spalle dell'unico attaccante che potrebbe essere se pienamente recuperato proprio Murano. Plescia resta a disposizione e magari potrebbe giocarsi la staffetta con il compagno. La forma fisica certamente farà la differenza in un match che racconterà tanto di questa squadra e della sua capacità di stringere i denti nei momenti clou della stagione. Grazie